Sono Andrea Moretti, svolgo principalmente attività di assistenza di secondo livello e consulenza. Ormai sono quasi quattro anni che lavoro in NICMA. Il momento più appagante in NICMA sono i complimenti da parte dei clienti sicuramente, ma anche dei responsabili aziendali per il lavoro svolto. Per me questo sono motivo di grande soddisfazione. Nella storia di NICMA ci sono stati diversi momenti importanti. In particolare ce ne sono due, i kick-off aziendali e le gite, perché sono un bel momento per legare con i colleghi anche al di fuori del contesto lavorativo e soprattutto scambiarsi idee e passare dei bei momenti insieme. Nell'affrontare le problematiche sollevate dai clienti, nei casi in cui il problema è più applicativo cerco di spiegare al cliente le varie soluzioni o le strade che possiamo intraprendere o semplicemente quale sia la natura del problema. È anche vero che la maggior parte delle volte il cliente non viene coinvolto perché alla fine tratto problemi di natura specificamente tecnica. La qualità di un buon servizio per me è la disponibilità e la gentilezza dell'operatore che, anche se in un primo momento non è in grado di risolvere il problema, comunque mi trasmetta fiducia nel fatto che darà il massimo per risolverlo o coinvolgere le risorse necessarie per farlo. Per me instaurare un buon rapporto con il cliente è fondamentale. Forse per la mia giovane età io tendo sempre a usare un approccio informale e quindi cerco di ispirare al cliente la fiducia di cui parlavo prima. Il rapporto con il cliente è importantissimo per fidelizzarlo e creare comunque un'opportunità di lavoro. NICMA mi dà la possibilità di instaurare un buon rapporto con i colleghi e personalmente mi dà quasi il senso di una famiglia. Le attività e le riunioni interne che facciamo, come dicevo prima, aiutano alle gare di più. Infine, ma non meno importante, mi piace moltissimo il lavoro che svolgo. Sarà anche per la mia versatilità che comunque mi ha permesso di lavorare e scoprire diverse aree applicative, ma è molto dinamico e mi permette di crescere tantissimo oltre che ovviamente di coltivare la mia passione per l'informatica.